La Floridiana è una situazione molto grave. Io ho scritto ieri l'ulteriore lettera al Ministro il quale ho chiesto di assumere immediatamente delle decisioni importanti in termini di risorse economiche e risorse umane. Non è accettabile che la Floridiana continui a stare in queste condizioni, continui a essere certe volte chiuse, che non c'è personale adeguato e risorse economiche adeguate. Noi per un periodo anche lungo abbiamo dato una mano a una struttura che non è comunale, però registriamo un approccio molto burocratico e quindi ci vuole una svolta, una svolta che può imprimere solamente le strutture dello Stato che sono sotto la guida del Ministero dei Beni Culturali e confidiamo nella sensibilità per dare immediatamente un segnale di apertura, di apertura gratuita e di messa in sicurezza. Non ci vogliono molti soldi, noi sappiamo anche quanto ci vuole, quindi è solo un tema di volontà e noi ogni giorno staremo sul pezzo. Anche stamattina ho fatto una telefonata da questo punto di vista, quindi non staremo tutti i giorni con la giusta pressione perché il secondo parco della città non può stare in queste condizioni di sottoutilizzazione.